Una vita loca! C'è la merda di Milano Quello che manca il struttore Rappresenta il disonore La sconfitta e le ultioni Sempre solo qui le azioni Rosso ne li siamo noi Ma chi cazzo siete voi? Eccoci qua ragazzi Buongiorno a tutti E bentornati a Spasso col Tringa Nella macchina infernale Il Tringa è sempre presente Iscrizione, campanellina, pollice in su Per il Tringa, doppio pollice per il diavolo Team Maglie Calcio nel primo commento Codice sconto Tringa Per fare i vostri ordini Pagamenti alla consegna Tute e magliette delle vostre squadre Preferite italiane, europee e mondiali E tutto il vestiario sportivo Delle migliori marche Team Maglie Calcio Codice sconto Tringa Per fare i vostri ordini Descrizione video ragazzi Matteo Chiamenti Il Milanista qualunque Iscrivetevi da Matteo Link in descrizione Tutti i miei social Nel gruppo Telegram Trovate tutto in descrizione video Analisi partita Udinese-Milan Grande, grande vittoria Che vale molto più di tre punti Questa è una vittoria Che può dare entusiasmo Questa è una vittoria Che può dare consapevolezza Allora vi ricordo stasera Ore 18 In live con Mario Stasera Sicuramente Andremo A commentare Insieme a Mario Quello che è stata La partita di ieri sera Nel frattempo Facciamo l'analisi Di quello che è successo Allora voglio partire Dalla metà del primo tempo Allora quello che è successo A Mike Mangan Allora io penso Che come sempre Questi discorsi Si esagerino Sia dalle altre parti Che dalla nostra parte Allora Se Quattro Babbi Combinano certe cose Non è giusto Condannare L'intero Moldo Ultras Come è stato Fatto Ieri sera Perché ieri sera In tanti hanno parlato Di Ultras E di curve Quando poi Realmente Saranno state Quattro Cinque persone A fare certe cose Sappiamo tutti Che i giocatori Vengono insultati Dalle curve Succede agli altri Succede ai nostri Poi che ieri sera Sia partita Qualche frase Qualche parola Indecente Su questo Siamo tutti d'accordo Siamo con Mike Il razzismo Non deve esistere Però è anche vero Che bisogna Comunque Metterlo Fra parentesi Cercare Di parlarne Il meno possibile Perché si Fa solo pubblicità A questi emeriti Coglioni Quindi siamo con Mike Sappiamo tutti Come la pensiamo Il calcio deve essere Multiraziale Il calcio deve essere Aperto a tutti Non c'è differenza Di colore Però non esageriamo Con questi Discorsi come sempre È da condannare Assolutamente sì Qualsiasi Tifoseria lo faccia Qualsiasi ignorante Faccia queste cose È da condannare Però secondo me Ieri sera Anche il fatto Di uscire dal campo Ha un po' Condizionato Quel momento Della partita Siamo rientrati Avevamo la partita In pugno Quando siamo rientrati Eravamo Completamente diversi Da quello che eravamo Stati fino a quel momento Sicuramente Mike Ha risentito Di quello che è successo E non deve succedere E non deve succedere Assolutamente Perché anche questo È sintomo Di fragilità E gli avversari Se vedono La fragilità Ci puniscono Ieri sera È successo Poi siamo stati Bravissimi A recuperarla Perché è stata Una vittoria Di carattere Di orgoglio Di milanismo Però Durante le partite Succede Sempre che Abbassiamo La tensione Ci perdiamo In un bicchiere D'acqua E ieri sera Il bicchiere D'acqua È stato Proprio Il momento In cui Mike Mignan È voluto Uscire dal campo Era arrabbiato Sono d'accordo Con lui Che poteva essere Arrabbiato Però Non dobbiamo Mostrare Il fianco Agli avversari Mai 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 Perché sappiamo tutti Che l'Udinese È già una squadra Ostica Ad affrontare Per noi Perché ha modo Di giocare Che a noi Non ci Ci dà fastidio E se oltretutto Facciamo queste cose Rischiamo veramente Di non portare A casa i tre punti Ripeto Ieri sera Siamo stati Bravissimi Perché da una parte Quel momento Ci ha condizionato In negativo Però il secondo gol Poi ci ha dato Il secondo schiaffo Che abbiamo preso Ci ha rinvigorito E dopo il secondo gol Non subito Ma poco dopo il secondo gol Il Milan è venuto fuori Pioli ha azzeccato Tutti i cambi Il mercato del Milan Ieri sera La fa da padrone E adesso Andiamo ad analizzare La partita Un po' più nel dettaglio Primo tempo Fino all'episodio Mike Mignan La squadra L'aveva girato benissimo Perché è vero Forse dovevamo Velocizzare Un po' di più Dovremo provare Qualche verticalizzazione In più Però Il giro palla Il possesso palla E La velocità Della palla Era comunque buona L'Udinese Fino al primo gol Praticamente Non aveva Fatto niente Non che poi Abbia fatto Granché Perché poi L'Udinese Ieri sera Ha fatto due tiri In porta Ha fatto due gol Però non era mai Stata pericolosa Gabbia Ieri sera Eccezionale Un Gabbia Ieri sera Da sette in pagella Un Simon Kier Che da alcuni giornali Viene dato Come peggiore in campo Quando invece Per me È stato A parte nell'episodio Il gol Di Samarzic Che fa tutto quello Che non deve fare Un difensore Però Possiamo anche capirlo Perché comunque Non è stato aiutato Nell'intervento In quel momento Fa male Però fa una partita Da 6-6 e mezzo Simon Kier Non sbaglia mai Posizione Difficilmente Viene superato Dai giocatori Dell'Udinese Davide Calabria Davide Calabria Non la migliore serata Ieri sera Senza ombra di dubbio Però Già stamattina Ho avuto un paio Di discussioni Sui vari social Per quelli Che come al solito Anche quando Si vince Dopo una vittoria Così all'ultimo minuto Hanno il coraggio Di criticare Allora Io penso Che veramente Chi critica Davide Calabria Sia un emerito Deficiente Perché Lo sappiamo tutti Che non sarà mai Il migliore Al mondo Non sarà mai Un top player A livello qualitativo Ma sicuramente Un top player Nell'animo Davide Calabria È sempre L'ultimo a mollare E anche quando Non sta bene E non fa bene Comunque il suo sudore È sempre quello Che sgorga più di tutti Non smette mai di correre Rincorre tutti E cerca comunque Di fare bene È uno che sprona la squadra È uno che parla con tutti È un giocatore Importantissimo Per questa squadra E chi lo nega È un coglione Perché non si può pensare Che una squadra Possa avere Undici giocatori In campo Di altissima qualità Davide Calabria È un ottimo difensore Un ottimo esterno destro Poi Ha i suoi alti E i suoi bassi Ma senza dubbio È un giocatore Che ha una media Molto regolare Il suo 6 in pagella Lo prende sempre Una volta 5 e mezzo Una volta 6 e mezzo Una volta 7 Una volta 5 Però Davide Calabria Ha una media Voto del 6 E non si può discutere questo Ripeto Poi sappiamo tutti Che Davide Calabria Non è Un mostro per qualità Però è un giocatore Che lascia sempre Il campo sudato Ed è un giocatore Che lascia sempre L'anima in campo E questo dovrebbe essere La cosa principale Che interessa i stifosi Ok Teo Hernandez Teo Hernandez Mette anche lui Il piede In ogni gol In ogni azione Pericolosa del Milan Teo Hernandez Ci mette il piede Fa una partita Da 6 e mezzo 7 anche Però è molto colpevole Insieme a TG Renders Sul secondo gol Dell'Udinese Una palla Che ormai Era nostra Persa in maniera goffa Prima per un errore Di Renders E poi per un errore Di Teo Hernandez Che dà modo a Toven Di fare un gol A proposito di Toven Secondo me È un ottimo giocatore Mike Magnani In porta Merita un 8 Un 8 e mezzo Un 9 Un 10 Perché comunque Quello che è successo ieri È imbarazzante Anche se Ripeto Non bisogna Farsi condizionare Da questi episodi Non bisogna Farsi condizionare Da questi episodi L'Off2Cic 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 Molto bene L'Off2Cic Ieri sera Molto bene Ha fatto un primo tempo Le sue progressioni Sono state devastanti Nel secondo tempo Si abbassa un pochettino Va addirittura A fare il mediano E scalcia Come un puledro Inbizzarrito Quindi Ieri sera L'Off2Cic C'è Quando segna L'Off2Cic Si vince L'Off2Cic È un giocatore Che comunque Quando sta bene È fondamentale Ieri sera Quando partiva Sembrava un treno Sembrava un treno Non riuscivano a fermarlo Non riuscivano Assolutamente a fermarlo TG Renders La peggior partita Da quando al Milan TG Renders Ieri sera La peggior partita Da quando al Milan Si vede Si sente Che è stanco Probabilmente Ha bisogno Di rifiattare E attendiamo Il miglior Musa Che possa magari Dargli un attimo Di respiro A TG Renders Perché è vero Che è un giocatore Imprescindibile In questo momento Ma è anche vero Che poi si rischiano Gli infortuni Quando uno è stanco E non sta bene Di testa Si rischiano Gli infortuni Quindi TG Renders Ha bisogno Di rifiattare Un voto basso Ieri sera Per TG Un 5 per lui Mentre invece Per l'off to cheek Un 6 e mezzo Che a me è piaciuto Tanto Adli Anche Adli Ieri sera Molto Ieri sera Adli bene Ma non benissimo Molto meno Molto meno bene Rispetto alla partita Con la Roma Illumina poco Difende poco Fa qualche errore Nel primo tempo Perde diversi palloni Ma comunque poi è stato bravo A recuperarli Perché è un giocatore tenace Spesso ieri sera Correva la rinfusa Correva dietro a tutti E spesso si trovava In mezzo ai piedi Ai suoi compagni Cioè Qua voleva sempre il pallone lui È un giocatore Che si vuole prendere Tante responsabilità Ma spesso Ne vuole fin troppa Ne vuole fin troppa Sicuramente è un giocatore Che vuole far vedere Vuole dimostrare Però secondo me Deve stare un po' più calmo Adli Ieri sera Sei Un sei Così Può fare molto di più E lo sappiamo tutti Che può fare molto di più Lì davanti Raffa Leao Sei Sei Perché comunque Qualcuno da cinque A Raffa Leao Mentre invece Leao nel suo piccolo Le sue cose le fa sempre Mette il piede In ogni gol del Milan Mette piede anche lui In ogni situazione Importante del Milan È vero Pioli ha ragione Abbiamo cambiato modo Di giocare Non proviamo più L'imbucata veloce Però è un giocatore Che si sta adattando Questo modo di giocare Ci vuole del tempo Anche per lui Sono convinto Che piano piano Tornerà Il vero Leao Chiaramente È un Leao diverso Da quello che abbiamo Sempre visto Christian Pulis È quello che ci mette Più verve Fin dall'inizio Prova le giocate Prova a dare idee Prova a giocare È fondamentale Ragazzi Christian Pulis È fondamentale È fondamentale Si merita un bel 6 e mezzo Perché comunque Ha fatto un'ottima partita Ieri sera Quando esce Il Milan Sembra più performante Però ragazzi È dovuto al fatto Che sono entrati i freschi Olivier Giroud Olivier Giroud Molto Molto Bene Lotta Combatte su tutti i palloni Si è ripreso Probabilmente Quelle due partite In cui non ha giocato Comunque è stato sostituito Gli hanno permesso Di rifiatare In questo momento Sta bene Quindi Molto bene Olivier Giroud Che si merita anche lui Un bel 6 e mezzo Anzi quasi un 7 Molto bene Okafor 7 e mezzo È un giocatore Importantissimo Lui Così come Luca Jovic Si prendono Tutte e due Un bel 7 e mezzo Sono due giocatori Importantissimi E Adesso Lo leggete anche in grafica Poi mi venite a dire Che Okafor Non può fare L'attaccante Tutti I gol Di Okafor I quattro gol Di Okafor Sono Arrivati Da attaccante Di razza Poi venitemi ancora A dire Che io Non so niente E voi siete intelligenti Okafor È l'attaccante Perfetto Per questa squadra Okafor È l'attaccante Perfetto Per questa squadra Perché ha Intelligenza tattica È Un giocatore Che può dare Tanta profondità Chiaramente Può fare anche L'esterno Ma Per questa squadra Okafor Potrebbe Diventare Un attaccante Fondamentale E la differenza Fra Okafor A Leao È semplicemente Una Un po' di anni fa Io dicevo Che Leao Avrebbe potuto Sarebbe potuto Diventare Un grandissimo Attaccante Ma poi Nel tempo Questa cosa Non è venuta fuori Okafor Può diventare Sempre più forte In quella zona Di campo E di questo Ne sono confinto Okafor Potrebbe diventare Il futuro Numero 9 Del Milan Così come Luca Jovic Io sono convinto Che Luca Jovic E Okafor Siano due punti Importanti Dai quali partire Anche nella prossima Stagione E per il futuro Perché Okafor Ha dimostrato Di essere Molto più forte Come attaccante Che come esterno E lo sta facendo vedere Perché ripeto Andatevi a vedere Tutti i gol Dio no A Okafor Sono da attaccante pure Da dentro L'area piccola Di rapina Sono giocate Da grande Grande attaccante Stefano Pioli 7 e mezzo Azzecca tutto Ieri sera Ieri sera C'era stata Una piccola Discussione Sul gruppo Whatsapp Del canale Pietro Era dell'idea Che la squadra Era lo specchio Di Pioli E ne sono convinto Anch'io Ho visto un Pioli Ultimamente Molto convinto E la squadra Ieri sera Si è dimostrata Molto convinta Di poter raggiungere Il risultato Quindi Sì C'era stata La vedevamo In due cose Lui lo diceva Quando stavamo perdendo Io non davo La colpa a Pioli Perché secondo me Il secondo gol Dell'Udinese Viene fuori Perché c'è un errore Sacrosanto Di due giocatori Di due giocatori Dentro l'area Se non ci fosse stato Quell'errore Probabilmente L'Udinese Non avrebbe segnato Perché poi Dopo quello Non ha praticamente Più fatto niente Il Milan comunque Stava Era sul pareggio Abbiamo avuto Le nostre occasioni Ma comunque Riuscivamo a gestire La partita all'Udinese Faceva fatica Fatica a venire fuori Ha provato qualche ripartenza Quell'errore Gli ha dato un po' di coraggio Dopo il gol L'hanno giocato ancora 10 minuti Però poi Le nostre qualità Sono venute fuori Le nostre qualità Ieri sera Sono venute fuori E la tenacia E la tenacia di questa squadra Che è allenata Da una persona Che è vero Che in alcuni momenti Ci ha dato modo Di capire Che mentalmente Fa fatica Ad infondere Caparbietà E forza Però è anche vero Che quando poi Trova la quadratura E quando poi Riesce a toccare I tasti giusti Riesce a dare alla squadra Un quid in più E in questo momento La squadra sta bene In questo momento La squadra sta bene Aspettiamo i rientri Aspettiamo qualche aiuto Dal mercato Se ci sarà E basta Stamattina Prima di chiudere Ho visto un Longoni Un Tarzanello Che si giustifica Per la questione Pif Arabi E via dicendo Ieri sera Ieri è stato smentito Su tutti i fronti Da Non dico canali ufficiali Perché Suma Non è un canale ufficiale Però io sono convinto Che Mauro Suma Sappia qualcosa in più Rispetto a Longoni Il Milan non è in vendita Soprattutto non è in vendita Finché lo stadio Non sarà costruito Perché Cardinale Vuole dare Un apporto Importantissimo A questa società Io sono convinto Che il Cardinale Rimarrà al Milan Per almeno una decina D'anni Chiaramente Ripeto Sta cercando Dei finanziatori O comunque Perso degli investitori Di minoranza Ma sicuramente Fino a quando Lo stadio Non sarà costruito Cardinale È sicuro Che rimarrà con noi Poi ripeto Ci possono essere Degli interessamenti Da parte degli arabi Ma vedere Una proprietà americana Con degli investitori arabi Soprattutto con La voce Che gira Che Maldini Sia uno Sia uno dei capi Cordata Che sta Pensando A questo progetto Di riprendere il Milan La vedo Veramente molto difficile Che Cardinale Possa muoversi In questa direzione Ripeto Secondo il mio punto di vista Ma non è solo il mio punto di vista Perché comunque Sono cose Che a differenza Di Tarzanello Che pensa di sapere tutto Poi alla fine Il San Casso Che girano È che Cardinale Sta cercando Investitori Americani Gente che conosce lui Gente già Molto vicina A lui Ragazzi Vi voglio bene a tutti Sempre forza Vecchio cuore rosso nero Vi ricordo ancora Stasera alle 18 Siamo in diretta Insieme a Mario Ricordatevi sempre Che su questo canale Stifa la vecchia maniera Noi siamo vecchio stampo Ah Ultima parentesi Ma veramente Avete il coraggio Voi youtuber Di sta ceppa Di festeggiare La vittoria di ieri sera Dopo tutto quello Che avete detto Veramente avete il coraggio Di festeggiare Io se fossi voi Sputerei per aria Mi prenderei In mezzo agli occhi E griderei Non sono degno Di te Ciao a tutti E forza Milan Mi prendere sue Vedo Per aria